Stai prendendo punzi, sai? Perché l'avevo perso? E' un po' coprino. Ma quando? Uscito dal bagno. Ma cosa stai arrivando a fare che rimani così? Vedi che lei ha visto. Ma dove hai fatto uccidere dal bagno? Tipo Christine Close. Nema problema! Nema problema! Come ti chiami? David in Spagnol, David in Italiano. Mr. David from America, ok? Mr. David? Mr. David. Sì, sempre davvero. No, sempre davvero. No, sempre davvero. Manca il pinolo. E' già frattato il pinolo. Non sento niente. E dopo, sai cosa manca? Un po' di più di cannella. La cannella. Mr. David. Un po' di più di noi. Proprietà di noi. Un po' di più di noi... Proprietà di noi. ... ... ... No